Bentornati in questo nuovissimo episodio di Keeping Up with Iaia Rondi, io sono la vostra host Ilaria Rondinelli e siamo finalmente arrivati al giorno tanto atteso, l'episodio, la puntata, chiamatela come volete, che mi avete tutti richiesto, soprattutto sui social, Instagram e TikTok. Quindi io cosa ho fatto? Mi sono andata a rivedere tutti i video che trovate nella cartella in evidenza su TikTok che si chiama Au Pair, è il nostro episodio, è quell'episodio, e mi sono andata a vedere le domande più gettonate, le domande che avete fatto praticamente quasi tutti e io mi sono appuntata ogni singola cosa nel mio quadernetto e oggi ne parleremo. Oggi ne parleremo nel modo più dettagliato possibile, quindi penso sarà un episodio più o meno lungo e cercherò di dirvi tutto, tutto ciò che riguarda l'esperienza di ragazza alla pari, cosa fare, cosa ho fatto io, con chi sono partita, insomma, tutte le domande che avete. Sto cosa sta registrato? Sai, ci sa, perfetto, ci siamo. Allora ragazzi, partiamo con la domanda più gettonata. Che cos'è una ragazza alla pari o un ragazzo alla pari? La ragazza alla pari è praticamente una babysitter che va a vivere, e questa cosa è un programma che potete fare in tutto il mondo, quindi non solo negli Stati Uniti, io ovviamente vi parlo degli Stati Uniti perché quella è stata la mia esperienza. Fate la babysitter praticamente in tutte le parti del mondo e andate a vivere con una famiglia, che si chiama famiglia ospitante, per 1-2 anni. Dipende ovviamente se fate soltanto un anno o estendete un secondo. Quindi cosa succede? Voi andate a vivere con questa famiglia ospitante e vi prendete cura dei loro pargoletti. Quindi tutto ciò che riguarda lavatrice dei bambini, prendersi cura dei bambini, cucinare i bambini, portarli a scuola, portarli a i loro sport pomeridiani, tutto ciò che concerne i bambini. Quindi siete una babysitter. L'unica differenza rispetto a una babysitter normale è che voi vivete in famiglia, vivete con quella famiglia e diventate praticamente parte integrante della famiglia. Questo è come praticamente parte lo slogan del Au Pair in America, diventi parte integrante della famiglia. Cioè quella è la main part dell'essere una ragazza alla pari. Oh, ragazza alla pari. Ma andiamo per ordine, andiamo per ordine. Allora, questa è stata la prima domanda. La seconda domanda è quali sono i requisiti per diventare una ragazza alla pari? I requisiti sono questi, che potete trovarli ovviamente su Google, però mi fa ridere perché le persone mi fanno le domande come se io fossi Google. Cioè come se non esistesse questo o un computer dire allora quali sono i requisiti? No, però vabbè io mi sento onorata perché probabilmente vi fidate di quello che vi dico. Requisiti. Tra i 18 e i 26 anni. Quindi potete partire se avete 26, però non dovete averne fatti, vi sembra, su questo non ne sono certa, però lo trovate su Google. Vabbè, tra 18 e i 26. Dovete avere un diploma di scuola superiore almeno, quindi non dovete essere laureati, va bene anche un diploma di scuola superiore, maturità. Dovete avere 200 ore di esperienza con i bambini. Allora, cosa si intende con l'esperienza con i bambini? Allora, io quando sono partita mi hanno richiesto che esperienza ho avuto con i bambini e io per esempio avevo fatto la babysitter, non vale, questo è quello che dicono, non vale la babysitter per il fratellino, la sorellina, la nipotina. Dovete effettivamente aver avuto esperienza con bambini proprio di famiglie che non conoscete, quindi fare proprio la babysitter ed essere pagata. Quindi fare la babysitter, io ho fatto l'animatrice in Sardegna, nei villaggi turistici, e mi prendevo cura dei bambini, quindi baby club, animazione, eccetera, eccetera. Quindi quello anche valeva come esperienza con i bambini. Ho fatto il tutor a scuola quando ho fatto appunto il tecnico per il turismo, io quando ero al terzo anno di liceo ho fatto da tutor ai ragazzi di primo e secondo superiore e questo valeva come appunto esperienza con i bambini, anche se erano bambini, ma vabbè. E ho fatto l'insegnante, ho fatto l'insegnante privata in una scuola privata a Roma e insegnavo lingue, aiutavo i bambini con i compiti, bambini, adulti, facevo conversazioni, insomma ho fatto l'insegnante, quindi anche quello valeva, io ho molte più di 200 ore. Cosa succede? Voi date, insomma dite io ho fatto questo, io ho fatto questo, loro vi chiedono il nome, il cognome, il numero di telefono delle persone, quindi la mamma del bambino a cui avete fatto da babysitter, quindi loro cosa faranno? Chiameranno questi numeri e parleranno con queste persone, quindi io questa cosa già ve l'avevo detta, è meglio evitare di inventarsi le cose, cioè dare il numero di mamma o papà e che chiamano e dicono, ah ma se... non lo so raga, per me lo potete anche fare, io non vi so, cioè vi lavo le mani, quello che volete fa volete fa, però non fregate la gente perché lo sanno, se state a chiamare la mamma del bambino o state a chiamare nonna o nonno, ecco per farvi capire. Quindi 200 ore con i bambini di esperienza. Dovete avere una fetina penale pulita, quindi oltre a tutta la documentazione che dovete avere per fare la ragazza alla pari, poi dovete andare a polizia, andare a richiedere la vostra fetina penale, se avete avuto problemi con la giustizia, con la giustizia, con la legge, insomma, non lo so se vi fanno partire, sono sincera, a cui io ho la fetina penale pulita, non lo so, quindi, però questo è quello che richiedono. E adesso passiamo all'ultimo punto che è l'inglese. Allora, l'agenzia parte dicendo il vostro livello di inglese deve essere buono, ok? Dovete parlare inglese. Questa è una grandissima cavolata, perché? Vi spiego. Questo non dipende dall'agenzia, questo dipende dalla famiglia ospitante. Quando voi farete il colloquio con la famiglia ospitante, la famiglia ospitante sarà lei stessa a dirvi guarda, ho bisogno di una persona che parli inglese perfettamente, perché ho bisogno che il mio bambino ti capisca, ho bisogno che io ti devo capire, quindi voglio che il tuo livello di inglese sia molto molto alto. O trovate la famiglia ospitante che magari ha origini italiane o non gli interessa parlare inglese e ti dice guarda, a me mi interessa che tu non parli bene inglese. Vieni qua e lo impari, anche perché, ragazzi, vuoi o non vuoi, questa cosa già ve l'avevo detta, e diffidate, e sta cosa sempre già ve l'avevo detta, diffidate dai corsi di inglese che fate in Italia un mese e imparate inglese. È una cavolata, è una grande cavolata, full immersion, english, no, no, perché se voi fate inglese, ok, voi vivete in Italia, parlate in italiano tutti i giorni, leggete in italiano, guardate la tv in italiano, tutto in italiano, il vostro surrounding è italiano, voi non imparerete mai l'inglese. Anche se a voi avete una buona base di inglese, se voi l'inglese non lo praticate, voi non lo imparerete mai, perché a me non mi serve, a me non mi serve, a me non mi serve il corso full immersion che mi fai due volte a settimana, una volta a settimana, due volte a settimana, un'ora da inglese, e ti dicono a fine mese tu sai parlare inglese, ma che stai a dire? Perché io ti parlo quell'ora in inglese, possiamo fare pure conversation, ma io torno a casa e continuo a parlare italiano, continuo a vedere la televisione di italiano, io l'inglese non imparerò mai. Quindi vuoi o non vuoi, quando voi andate a fare questo tipo di esperienze, andate a vivere nel posto, quindi negli Stati Uniti, parlate inglese, siete costretti a parlare inglese, il vostro surrounding è in inglese, guidateci e sta tutto in inglese, guardate la visione in inglese, leggete in inglese, voi l'inglese lo imparate. Cioè anche se voi non avete una base di inglese, o comunque se partite con una base, siete avvantaggiati, voi a fine dell'anno l'inglese lo sapete parlare. Certo, diventa un pochino problematico se state un anno, poi tornate in Italia e smettete di parlare inglese, magari i primi tempi ancora ce l'avete, però poi piano piano, se non continuate, va a scemare. A me ovviamente non siete bilingue, non siete madrelingua, ma veramente, cioè raga, io ve lo dico con tutto il bene, anche perché io insegnavo inglese online ai ragazzi, era più che insegnare, era un aiuto compiti, aiutavo se ci avevano magari il debito in inglese, io aiutavo con i compiti, gli spiegavo la grammatica, ma quello è. Io all'inizio delle mie lezioni, quando lo facevo online, dicevo sempre, raga, cioè non è che voi, a fine della lezione con Ilaria, perché Ilaria è un genio, Ilaria insegna perfettamente, tu sai parlare inglese, madrelingua, no, cioè no, questa è una cosa che dovete sapere. Quindi l'esperienza vi aiuta ad imparare l'inglese, vi aiuta a migliorare l'inglese, quindi vuoi o non vuoi voi l'inglese, alla fine dell'anno lo sapete. Quindi tornando al concetto della famiglia vuole che parliate inglese perfettamente, non è vero, questo dipende dalla famiglia, quindi una cosa che tutti quanti ci hanno paura, tutti quanti, oddio Ilaria, ma io l'inglese, leggevo i commenti, ma io l'inglese, oddio no, non lo so parlare, dipende dalla famiglia, dipende dalla famiglia. Passiamo oltre, quindi questi sono i requisiti. Allora, il processo, il processo, cosa succede? Voi, questa è un'altra cosa che vi avevo fatto tanti video su TikTok, voi avete due opzioni, partite con l'agenzia Au Pair, quindi l'agenzia specializzata in ragazze alla pari, ragazze, ragazze, ragazze alla pari, o se no, trovate delle famiglie sui siti online, che io sconsiglio, proprio sconsiglio spassionatamente, perché ragazzi, già partire con un'agenzia, e credetemi, è un rischio, è proprio un salto nel vuoto, anche soltanto con l'agenzia, e poi adesso vi dirò il perché. Andare sui siti, e la maggior parte sono famiglie fake, io ragazzi ve lo sconsiglio. Ci sono ragazze che sono partite con delle famiglie trovate online, e si sono trovate bene, però io ve lo dico proprio spassionato, non vi fidate, affidatevi sempre ad un'agenzia. Quindi cosa succede? Voi cercate l'agenzia, che magari è nella vostra città, e contattate, e fate un colloquio, ok? In questo colloquio, è un colloquio molto informale, molto conoscitivo, ti chiedono appunto chi sei, com'è il tuo livello di inglese, cosa ti aspetti da questa esperienza, e questa è l'altra domanda più gettonata, ti chiedono dove vuoi andare, ti dicono qual è il tuo sogno, dove vorresti andare, e tu rispondi, voglio andare a Los Angeles, voglio andare a New York, voglio andare a San Francisco, quindi loro lo mettono nella tua scheda, ok? Perché poi loro faranno, cosa succede? Loro fanno una scheda, e questa scheda andrà online, nel sito AuPair, quindi, dicono, Ilaria, nata, anni, parla questo tot di lingue, parla inglese, francese e spagnolo, ha esperienza con i bambini, sa cucinare, eccetera, eccetera, vuole andare a vivere a New York, Los Angeles, San Francisco, ma, voi potete dire, quanto vi pare che volete andare, di qua, di là, ma questo poi, non dipende da nessuno, nel senso che, cosa succede? Voi andate online, ok? Il vostro profilo va online, la famiglia Tal Detali, di New York, guarda la scheda, loro mettono come requisiti, ragazza di 25 anni, che parli spagnolo, che parli italiano, che, ehm, sappia fare una cosa specifica, ne so, andare a cavallo, perché hanno il figlio che vuole andare a cavallo, trovano Ilaria, trovano Ilaria, e dicono, ah, vedi, Ilaria vuole andare pure a New York, ok, allora, la contattiamo, ma, ma, ci sono tantissime famiglie sparse, in tutti gli Stati Uniti, quindi, se loro cercano, voi come persona, perché avete quel tipo di capacità, vanno sul sito, e trovano Ilaria, però noi siamo, viviamo, a Oklahoma, e la famiglia comunque vi contatterà, e sta poi a voi decidere, allora, voglio fare 50 colloqui, con 50 famiglie diverse, perfetto, questa è una vostra scelta, voi potete fare, quanti colloqui volete, ne potete fare pure 60, finché non trovate giustamente, la famiglia che vi piace, la famiglia che, c'è una connessione, anche tramite soltanto uno schermo, ma dipende da voi, dipende dai vostri goals, dipende da quello che volete, nel senso, volete partire subito, non vi potete mettere a fare 60 colloqui, perché partite dopo tre anni, volete prendervi il vostro tempo, perché volete trovare la famiglia perfetta, perfetto, ci mettete tre, quattro, cinque, sei mesi, perché poi comunque, le famiglie, non è che stanno tutte, aspettate, l'aria vuole fare il colloquio, cioè quelli, giustamente, la maggior parte, hanno bisogno di un au pair, proprio subito, cioè tu devi partire subito, ci sono famiglie che ti dicono, proprio tu mi servi domani, quindi l'agenzia, vi fa il biglietto, il giorno dopo voi partite, quindi ci sono tante, tante situazioni diverse, quindi la location, sì, voi potete dire dove volete andare, ma gira che te rigira, non andate mai fondamentalmente dove volete andare, perché poi dipende dalla famiglia, se vi piace la famiglia, eccetera, eccetera, quindi questo è riguardo la location, cosa vi, cosa vi dà l'agenzia, cosa quindi paga l'agenzia, quanto invece dovete pagare voi l'agenzia, allora, quando io sono partita nel 2019, e quindi stiamo parlando, io mi sono messa in contatto con l'agenzia nel 2018, io sono partita con AuPair International, che, praticamente, tutto questo riguarda WEP, ok, che avevano sede, hanno sede, penso ancora, a Roma, e loro sono, lavorano con AuPair International, ci sono tantissime agenzie, Cultural Care, AuPair in America, AuPair International, altri non mi vengono, e io quindi vi parlo della mia esperienza, se volete altre esperienze, se per esempio molte persone mi hanno chiesto di Cultural Care, andate sulla cartella di evidenza AuPair, su TikTok, e, non ci sono tantissime cose positive, riguardo Cultural Care, ma come non ci sono tantissime cose positive, riguardo, le agenzie AuPair in generale, non sono proprio il massimo, adesso vi dirò anche un pochino perché, comunque, andiamo passo passo, quindi quanto si paga l'agenzia? Quando io sono partita con AuPair International, pagai, cioè follia, infatti se ci penso dico, porca miseria che sedere, 250 euro totali, punto, io ho pagato 250 euro l'agenzia, l'agenzia mi ha dato tutto, tutto incluso, l'unica pecca, ed è per quello che costava così poco, l'agenzia era piccolina, rispetto a Cultural Care e le altre agenzie, era molto molto piccolina, adesso si sono estesi, infatti hanno alzato i prezzi, ma, che poi io non lo sapevo, l'ho scoperto dopo, perché io mi sono affidata a AuPair International, solo perché ho visto che avevano sede a Roma, per esempio Cultural Care ha sede a Milano, quindi io non mi sono messa a cercare, io ho cercato Roma, AuPair, ho trovato punto, e quindi per dirvi, Cultural Care è già al tempo, dovevi pagar 1.2003, le altre agenzie, idem, la mia, 250 euro, adesso pure loro, mi sembra 1.500, 1.600, insomma, s'ha alzato pure un sacco fa l'AuPair, costa un bel po' dei sordini. Cosa vi dà l'agenzia? L'agenzia vi paga, l'assicurazione sanitaria, che è una cosa stra-importante negli Stati Uniti, perché ragazzi, se non avete assistenza sanitaria, vi succede qualcosa? So 5, 6, 7 mila dollari, ma se vi succede una cosa stupida, beh, rimanete incinta? Dovete partori? Quelli sono 90 mila dollari di bolletta, cioè ragazzi, senza assistenza sanitaria. Per esempio, c'era una mia amica, ed è questo, si collega al fatto, che l'assistenza sanitaria sia importante, va ad all'agenzia, ma raga, l'assistenza sanitaria che vi dà l'agenzia, non vale una cicca. Quando io ho fatto la ragazza la pari, avevo una mia amica a Seattle, che si era fatta male al piede, non mi ricordo cosa era successo, ah no, aspettate, i denti, i denti, aveva avuto dei problemi con i denti, gli dovevano levare un dente, l'assistenza sanitaria, l'opera non pagava, quindi la sua host family, che io ve lo dico sempre, ve l'ho fatto questo discorso in tanti video, la maggior parte delle host families, sono molto molto ricche, sono persone che stanno molto bene con il mio amente, hanno pagato loro, perché doveva pagare 6 mila dollari di bolletta, perché l'assistenza sanitaria non copriva. Quindi vi copre l'assistenza sanitaria, ma fino a un certo punto, io ovviamente in questo episodio ragazzi, io vi dirò tutto quello che l'agenzia non vi dice, perché a me non mi paga nessuno per parlare di agenzia e non agenzia, lo sapete io come sono, io sui social sono la persona più schietta, più sincera che ci possa essere, io non vi dirò mai, ah no perché è tutto perfetto, come vi dice l'agenzia, loro slogan, quando andate vi parlano di questa esperienza come l'esperienza perfetta, non è assolutamente così, nessuno vi dice niente, quando io sono partita, a me nessuno mi ha detto niente, tutte queste cose io le ho scoperte da sola, cioè vivendomi l'esperienza, e tutte le ragazze alla pari italiane, ci sono anche delle community su Facebook, scrivetevi, vi diranno tutte la stessa cosa, cioè ragazzi leggete le esperienze, le ragazze alla pari vi mettete le mani nei capelli e dite porca miseria ma a me sta cosa non mi ha detta nessuno, è così, ma andiamo per ordine, assistenza sanitaria ci siamo, biglietto andate e ritorno, vi pagano il biglietto andate e ritorno, ma attenzione, attenzione, se voi andate a fare la ragazza alla pari, e l'agenzia vi ha pagato l'andata, il ritorno ve lo paga solo e soltanto se voi finite l'anno, avete completato l'anno, e dovete tornare in Italia, o dovete tornare al vostro paese, ma se voi decidete che l'esperienza di ragazza alla pari non fa per voi, perché voi potete tornare a casa in qualsiasi momento, cioè voi una settimana state nella famiglia, piangete tutti i giorni, no io quando ce voglio sta, ciao, tornate al vostro paese, tantissime ragazze hanno capito che l'esperienza au pair non faceva per loro, e se ne sono andate subito, non conosciute tantissime ragazze alla pari, se state una settimana se ne sono andate, cosa succede però, l'agenzia non vi paga il biglietto, quello che lo dovete pagare voi, quindi se voi decidete dopo una settimana, che l'esperienza non fa per voi, dopo un mese, dopo due mesi, volete tornare, non ve lo pagano loro, ritorno, lo dovete pagare voi con i vostri soldini, quindi pensateci, domanda, conviene alle famiglie americane prendere un au pair? Allora, io qua mi sono scritto un po' di appuntine, un po' di domandine, prima di tutto, conviene alla famiglia, perché? Perché il governo americano dà dei contributi alle famiglie che decidono di prendere una ragazza alla pari, di quindi partecipare a questo programma, a questo exchange, diciamo, chiamiamolo così, quindi, è tutto un giro, nel senso che alla famiglia conviene, e al governo americano conviene, perché loro danno il contributo alla famiglia, e voi dicono, famiglia ospitante, se vi prendete la ragazza alla pari, noi vi diamo questo contributo, ma aspettate però, la famiglia poi di conseguenza paga l'agenzia, perché poi anche la famiglia ospitante deve pagare l'agenzia, non solo deve pagare voi, pagandovi lo stipendio, ma prima di prendere l'au pair, devono pagare per far parte del programma, ma perché le famiglie americane lo fanno, e lo fanno così spesso, perché qui la ragazza alla pari è una cosa, tantissime famiglie, soprattutto le riccone, hanno la ragazza alla pari, o il ragazzo alla pari, perché c'è anche il bro pair, quindi questa è la domanda che risponde, posso farlo se sono un maschio, sì, lo puoi fare se sei un uomo, un maschio, e le famiglie ospitanti, che prendono le ragazze alla pari, la maggior parte delle volte, sono famiglie, che stanno molto molto bene economicamente, anzi, il 95% sono famiglie, che stanno stra bene economicamente, perché avere una ragazza alla pari, è molto costoso, ma perché lo fanno, perché dici, non si prendono direttamente una ragazza americana, che gli viene a fare la babysitter, quando hanno bisogno, paghi, ciao, torni a casa tua, no, a loro conviene, anzi, a loro stra conviene, perché, una babysitter americana, quindi, un lavoro da babysitter, adesso, me lo sono scritto, si guadagna tra i 20 e 25 dollari l'ora, poi ovviamente dipende da stato a stato, ogni stato, ogni stato americano, ha il suo, ehm, amount, insomma, quanto pagano all'ora, per esempio, qui in Virginia, pagano dai 20 e 25 dollari l'ora, quindi dici, fate due carcoli, io sono, una famiglia ospitante, molto molto ricca, perché, io sono un dottore, ecco, per esempio, la mia host mamma era un dottore, lavorava in tre ospedali diversi, il mio host dad, era un famoso scrittore, era un ex famoso mountain biker, che poi è entrato, si è aperto questo giornale, infatti, noi viaggiavamo spessissimo, lui andava a questi eventi, tutti quanti lo conoscevano, oh my god, you're the biker, ba ba ba, e, quindi, la maggior parte delle volte, queste sono persone molto ricche, sono avvocati, dottori, chirurghi, ehm, di tutto e di più, aspetta, che erano altre, altre mie amiche, ah, una mia amica, Seattle, il suo host dad, era, faceva parte dei fondatori di Amazon, cioè, ragazzi, aveva una casa che voi non vi immaginate, quindi persone molto molto ricche, che stanno molto molto bene, cosa succede? Noi sappiamo che negli Stati Uniti, ehm, non si lavora per vivere, ma si vive, si vive per lavorare, ok? Questi lavorano, tutto il giorno, tornano a casa, e manco, manco ci vogliono stacua i figli, perché fondamentalmente a questi, non gliene frega niente, la maggior parte, proprio, non gliene frega niente, ti ammollano i figli, bello, ti apiedelo, ehm, io, ci devo lavorare, io sono una business woman, sono una business woman, sono una business man, io, devo lavorare, devo lavorare, devo fatturare, devo fare i soldi, e, questi lavorano tutto il giorno, questi non possono avere una babysitter, perché la babysitter dopo un po' dice, te so, io devo andare a casa, cioè, io posso stare qua a lavorare dieci ore, eh, eh, e invece no, loro che fanno? Loro prendono la ragazza alla pari, la fanno lavorare tutto il giorno, tanto sta a casa, arrivo tardi, te so, guarda, arrivo tre ore in ritardo stasera, poi te pago quelle extra ore, ma non te pagano 20-25 dollari l'ora facendolo per, ma di che? Ti pagano 4-5 dollari l'ora, che se tu ti fai un calcolo, quanto saranno? Adesso mi sembra che ho letto su internet, ecco, sono 200, più o meno 200 dollari a settimana, ragazzi, 200 dollari a settimana non è nulla, vivendo negli Stati Uniti, è anche vero che voi avete tutto incluso, nel senso la famiglia ospitante, vi deve dare di contratto, tre passi al giorno, che devono proprio darvi loro, quindi colazione, pranzo e cena, quindi loro non possono dirti devi andare a cena fuori perché stasera io non te cucino la cena, no, secondo il contratto, loro ti devono dare tre passi al giorno, l'assicurazione sanitaria è pagata, la macchina, se voi avete a disposizione la macchina, in teoria, loro dovrebbero pagarvi la benzina per portare i bambini a scuola, avanti e indietro, l'assicurazione la pagano loro, cioè, è vero anche che voi non avete spese, ma ragazzi, 200 dollari a settimana negli Stati Uniti, soprattutto adesso, non è assolutamente nulla, nulla, fatto sta che io quando incontrai Dylan, appunto parlavamo a Tuzione Opera, che figo, quanto guadagni, voi mi dici, come fai a sopravvivere? Cioè, adesso ci sono rimasto malissimo, non ho mai detto. Quindi, alle famiglie conviene, conviene, stra conviene. Sapete quante volte io, la mia host mom, faceva, doveva fare, ho spero, non si erano separati. La mia host mom, il mio host dad, lavorava sempre, viaggiava sempre per tutti gli Stati Uniti, non c'era mai, a parte poi erano separati, in casa soprattutto. Una cosa stranissima, lui c'aveva la stanza sua, lei c'aveva la stanza sua, e lei, ovviamente, stava con la compagna, perché la mia host mom, è lesbica, insomma. però va bene, se non vi sto a parlare, io se volete, ve l'avevo già parlato, della situazione che ho avuto con la mia host family, la trovate sempre nella cartella in evidenza. Quindi, lui non c'era mai, e lei era un dottore in tre ospedali diversi, quindi le faceva spessissimo la notte, mi chiamava all'ultimo, e mi diceva, Ila, stasera devo fare l'overnight, ti pago 50 dollari in più, per stare a casa a dormire, mentre le bambine dormono. perché avevo due bambine. Tantissime volte, e una cosa del genere, negli Stati Uniti, con la babysitter, non lo potete fare, cioè, sta cosa succedeva praticamente tre, quattro volte a settimana, e giustamente, con la babysitter, non lo potete fare. Quindi, a queste famiglie ospitanti, conviene, a voglia se conviene, sia a livello economico, perché i sordi che hanno speso, per entrare nel programma, e avere un au pair, poi quei sordi, li rifanno proprio tutti, ma proprio tutti, anche il quadro, quindi a loro conviene. Ma non abbiamo dubbi su questo. Poi andiamo avanti, questo ve l'ho detto, quanto costa, entrare nell'agenzia, esiste il bro pair, sì, passiamo, diciamo, a un pochino, a livello di colloquio, cosa chiedere, cosa non chiedere, alla famiglia, a livello del college, tantissime persone mi hanno chiesto, erano interessate, al fatto che io sono andata al college, mentre facevo la ragazza alla pari, andiamo per ordine, andiamo per ordine. Partiamo prima dai 6 crediti. Allora, secondo il contratto, quando voi partite per fare la ragazza alla pari, alla fine dell'anno dovete ottenere 6 crediti, e questi 6 crediti come li ottenete? Li ottenete o andando al college, o partecipando alla weekend class. Questa cosa ve l'avevo già detta su TikTok. Se voi andate, perché siete interessati, e volete imparare meglio l'inglese, volete migliorare l'inglese, perché il vostro inglese fa schif, oppure avete delle basi, ma lo volete migliorare ancora di più, io vi do un consiglio proprio spassionato, come se fosse proprio amiche, o fosse, non lo so, fate come vi pare, andate al college, perché è un'occasione che non vi ricapita, perché voi dovete pensare che la famiglia ospitante vi dà 500 dollari, loro devono darvi 500 dollari per andare al college. Cosa potete fare? Andate, che ne so, voi il vostro sogno più grande è sempre stato andare in un'università prestigiosa, adesso io non vi sto a dire di andare a Princeton, o a Harvard, o a Berkeley, perché insomma, quello ci vuole, no, costa troppo. Però magari, che ne so, investite su questa cosa, io capisco che già costa tanto, fa la ragazza da pari, però magari, loro vi danno 500, voi ne aggiungete un po', e magari vi andate a fare l'esperienza in un college prestigioso, cioè, raga, ma quando vi ricapita? Se non volete fare, andate semplicemente ad un college, che insomma, vi fate un corso, vi danno 500 dollari alla vostra host family, e fate il corso, e poi vi danno il certificato, avete ottenuto i segreti. la weekend class, se non vi frega niente, deve voler imparare meglio l'inglese, non volete fare l'esperienza in college, non vi interessa, fate la weekend class, semplicemente è un weekend, che voi andate con la vostra LCC, che sarebbe la vostra localeria, si chiama, la tizia che vive nel vostro quartiere, diciamo, e se avete bisogno di qualcosa, lei la contattate, se avete problemi con la famiglia, se avete qualsiasi tipo di problema, in teoria la localeria, è quella che dovrebbe aiutarvi, in tutto e per tutto, ma anche su quello, ci sono delle cose da dire, ma vabbè, se no qua, no, smetto più. Quindi è una weekend class, andate due giorni, sabato e domenica, semplicemente fate il giretto da città, che ne so, vi portano a Chicago, che bella Chicago, hai ricevuto i segreti di, ripeto, io vi consiglio di andare al college, perché è un'esperienza, avete più possibilità, di incontrare tantissime persone americane, è stata una bellissima esperienza, quindi io vi consiglio di andare al college, e poi se non vi frega niente, ripeto, fate la weekend class. Quindi abbiamo analizzato tutte le domandine, che mi avete fatto sui social, quelle più gettonate, penso di aver detto tutto, sì. Adesso passiamo invece al colloquio con la famiglia, quindi come capire se è una famiglia, è una buona famiglia, e questa diciamo, io la reputo la parte più importante di questo episodio, soprattutto per i genitori, che stanno mandando i figli, o le figlie a fare ragazze alla pari, l'exchange student, perché comunque anche l'exchange student, avete una famiglia ospitante, e anche per voi che magari state per partire, o siete già au pair, e avete bisogno di un qualcuno, che vi racconti la sua esperienza, perché la stessa cosa che vi dicevo negli altri episodi, è diverso quando l'esperienza viene raccontata da un vostro compaesano, in questo caso tra noi italiani, perché comunque la cultura americana è molto, molto, lo dico sempre, diversa da quella italiana, e ci vuole sempre il punto di vista, anche se magari abbiamo due punti di vista, però comunque l'esperienza è quella, il modo di vivere italiano è quello. Allora, quando voi fate il colloquio con la famiglia, ci sono delle domandine che dovete fare, non vi dirò mai che facendo 3-4 videochiamate Skype, qualche messaggino prima di partire, vi porterà a dire, ah sì, io conosco la famiglia ospitante, so che sono una buona famiglia, mi fido, non vedo l'ora di partire, sono la famiglia ospitante migliore del mondo. Nel 70% delle volte voi andate nella famiglia ospitante e queste persone sono tutto il contrario di quello che pensavate, è successo a tantissimi au pair, è successo anche io in prima persona, ma, vabbè. Quando voi fate il colloquio con la famiglia, non è, cioè, voi non conoscerete mai la famiglia come quando la conoscete, quando siete arrivati in Italia, in America, no? Cioè, quando voi arrivate in America e vivete con la famiglia, è lì che vi rendete conto di chi sono veramente. Quindi, voi potete fare quanti colloqui volete, quanti videochiamate volete, ma la famiglia ospitante, soprattutto gli americani, che gli americani sono molto, quello che c'è fuori, non quello che c'è dentro, cioè tutto aspetto, no? E' tutto, ah no, oddio, oh my God, I love you, I miss you, sono tutti carucci, li dovete conoscere. Ti ripeto, perché tutto parte dal fatto che la loro cultura è molto, molto diversa dalla nostra, io qua c'ho sempre il, la loro cultura è molto diversa dalla nostra. Quindi la famiglia ospitante che sembra la miglior famiglia del mondo, poi arrivate, e io, veramente ragazzi, io in prima persona l'ho vissuto, ho parlato con tantissime ragazze, amiche mie, quando eravo facevo la ragazza lavare, cose fuori dal normale, proprio cose assurde, ve la dico molto velocemente. La mia amica argentina, che è andata via, scappata dopo due settimane, è tornata in Argentina, famiglia ospitante, hanno fatto la videochiamata, carissimi, bellissimi, perfetto, tutto fantastico, e arriva da lì, la host mom, praticamente, la controllava, la notte andava nella stanza, le controllava il telefono, le proibiva di mettere pantaloncini corti, cose corte, e nonostante fosse estate, e c'era caldo, perché diceva che ci stava provando col marito, e se voleva portare a letto il suo sdad, cioè cose folli, un giorno eravamo al college, la chiama, e le fa, perché hai preso la macchina, e ha detto, perché ho dovuto portare i bambini a scuola, perché sono al college, hai rubato la macchina, adesso chiamo la polizia, e ti denuncio, cioè, e questo è nulla, voi, host parents, host dad, che hanno, violenza sessuale, verso le host girls, scusate, verso le au pair, quella che ha tradito, si è sposato, l'host dad che si è sposato con l'aupair, ha tradito la moglie, cioè, veramente, c'è anche un, un gruppo facebook, che non mi ricordo come si chiama, in cui ci sono tutte le au pair, anche internazionali, che raccontano storie, ragazze, veramente, io in primis, cioè la mia famiglia ospitante, tutti carini, poi sono arrivata lì, e ci ho avuto, non uno, ventimila problemi, fatto sta che alla fine del, del mio anno, io sono rimasta, ne avevo già parlato sui social, ero rimasta per il semplice fatto, che avevo già conosciuto Dylan, che è mio marito, adesso siamo sposati, e io avevo avuto sto, colpo di fulmine, ma io volevo fare rimatch, rimatch è, praticamente, quando voi non vi trovate bene con la famiglia, e volete cambiare famiglia, quindi voi potete fare rimatch, quante volte volete, fino a quando, non sentite di trovare la famiglia giusta per voi, questo mi era un'altra domanda, che mi avete fatto, cos'è il rimatch, e io volevo andare via, volevo trovare una nuova famiglia, però io avevo conosciuto Dylan, c'era stato il colpo di fulmine, era comunque, già erano sei mesi, che stavo lì sette mesi, ma non mi ricordo, avevo fatto le mie amici, c'erano le mie amiche au pair, avevo trovato le mie amicizie, andavo al college, non è facile, non è facile lasciare tutto, il rimatch è molto più semplice, se magari capite subito, che la famiglia non fa per voi, e dopo un mese, andate via, o magari dopo due settimane, cambiate famiglia, fate il rimatch, perché ci sta, voi potete fare il rimatch, quante volte volete, fino a quando non, sentite che quella è la famiglia giusta per me, quindi domande da fare alla host family, prima di tutto, da lì capisci un pochino, perché ripeto, non la conoscerete mai abbastanza, tramite uno schermo, quindi le domande vi aiutano un pochino, queste sono tutte cose che io non sapevo, e speravo che qualcuno mi dici, ma non ce l'avevo nessuno, quindi, allora, come sono a livello di, ho un coprifuoco, ho la macchina disponibile, posso fare quello che voglio, se io ho più di 21 anni, a te ti dà fastidio che vado fuori con le mie amiche, ho un coprifuoco, devo tornare, perché allora, ci sono tantissime famiglie ospitanti, che non si rendono conto, che, se io sono una babysitter, lavoro per te, vivo con te, ma io, sono qui anche per fare un'esperienza, non solo per lavorare, cioè io voglio viaggiare, voglio conoscere persone, voglio uscire la sera, quindi tu, non mi puoi dire, ah no, tu, non puoi uscire la sera, no, tu, cioè il coprifuoco, oppure tu non hai la macchina, cioè ragazzi, a meno che voi, non andate a vivere a Los Angeles, a San Francisco, a New York, che ci avete la metro, o comunque camminate, è impensabile, che una famiglia, vi dica, che non avete la macchina, negli Stati Uniti, ragazzi, la macchina, negli Stati Uniti, è una cosa, che dovete avere, punto, non c'è né se, né ma, senza macchina, se non vivete, in una grande città, siete persi, ed è per questo, che, negli Stati Uniti, gli americani, hanno sempre i macchinoni, gli americani, stanno sempre a cambiare macchine, perché loro ci vivono, loro vivono, cioè loro stanno più dentro la macchina, che dentro casa, perché vanno a lavoro, prendono la macchina, anche voi, questi non sono abituati a camminare, quindi prendono la macchina, pure per fare un metro, cioè, voi le fate la macchina americana, e l'America è fallita, quindi, che tu mi dici, che vengo a fare l'auper per te, in Ohio, dentro alla foresta, dentro al boschetto, e mi dici, non c'ho la macchina, no, cioè, no, non mi puoi di una cosa del genere, perché io, come faccio, se voglio andare in palestra, voglio andare al college, come faccio, no, quindi, a meno che non vivete in una grande città, la macchina è un must, per forza, se già cominciano a farvi problemi, è la macchina, però, già quella è una red flag, il programma, si basa, cioè, il programma è, diventare, parte integrante, della famiglia, voi non andate solo per lavorare, voi fate anche un'esperienza, e diventate parte integrante della famiglia, quindi, voi partite, sì, a noi ci piace viaggiare, mi portate con voi, no, già quella è un'altra cosa che vi fa capire tante cose, perché, la famiglia ospitante, ve lo ripeterò all'infinito, perché tante persone su TikTok mi hanno detto, no, perché, ma come ti aspetti, che questi ti paghino tutto, allora, le famiglie ospitanti, la maggior parte, ripeto, il 97%, il 95%, sono persone molto, molto ricche, che a loro pagare il biglietto, perché voi vi vogliono che vanno in Hawaii, vanno a Miami, e ci hanno bisogno che lavorate, loro devono pagare tutto, soprattutto se vi vogliono portare, che dovete lavorare, e quindi dovete tenere i bambini, quando io sono partita con il mio host dad, che stiamo andati in Canada, che lui aveva un evento, con le mountain bikes, lui mi ha pagato tutto, pagato il biglietto, per arrivare l'hotel, la mia stanza d'hotel, e in più mi ha pagato le ore che ho lavorato, perché mi sono presa cura delle bambine, l'ho portata là, l'ho portata qua, mi ha pagato per pagare i pranzi, le cene, cioè, questo è il programma, questo è come dovrebbe essere, ma purtroppo, la maggior parte delle famiglie, non succede, loro vedono, il programma ragazza la pari, come la schiavetta, che te viene, deve prendere cura dei tuoi figli, la paghi due soldi, e la sfrutti, tantissime opere, hanno avuto questo tipo di problema, nel senso che sono arrivate lì, e l'hanno prese come le schiavette, le signore delle pulizie, pulisci tutta casa, pulisci quello, no, la ragazza la pari, deve prendersi cura, solo e soltanto, dei bambini, e delle cose dei bambini, quindi, sì, la lavatrice del bambino te la faccio, ma la lavatrice tua non te la faccio, sì, il bagnetto dei bambini te lo pulisco, ma il tuo bagnetto non lo pulisco, cioè, bisogna cominciare a mettere subito, dei paletti con la famiglia, non avere paura di fare domande, fate tutte le domande, di cui avete bisogno, dalla prima all'ultima, anche se avete 50 domande da fare, fatele, anche le più stupide, altra cosa, molto importante, avete le telecamere dentro casa, voi non sapete quante, quante ragazze alla pari, non, le famiglie ospitanti, devono dirti se hanno le telecamere dentro casa, perché io devo sapere se tu mi controlli H24, lo sapete quante famiglie non l'hanno detto, e le opere si sono rese conto, dopo qualche mese, che venivano a registrare tutto il giorno, tutti i giorni, che magari, che ne so, in quel momento, stavano col telefono, e va la host mom, e va a guardare, ah, ma, il resto al telefono, eh, senti, stai avendo il telefono, come fai tu a saperlo, eh, perché ci sono le telecamere, tu muovi, devi dire se ci sono le telecamere, sono tante piccole cose, che ripeto, non vi aiutano a capire al 100%, chi avete davanti, e chi è la famiglia, perché ripeto, tantissimi fattori, diversa cultura, diversi modi di pensare, veramente, io ve lo dico sempre, la cultura italiana, e la cultura americana, sono due mondi, completamente diversi, soprattutto, per come vivono, per il, per il, per, cioè, le loro fondamenta, il loro modo di vivere, la società, tutto completamente diverso da noi, quindi, queste domande, anche le più stupide, ti aiutano a capire, se la famiglia è una buona famiglia, il programma ragazza alla pari, e io l'ho detto sempre, dal primo momento in cui io ne ho cominciato a parlare su social, è un salto nel vuoto, per fare la ragazza alla pari, voi dovete essere molto flessibili, dovete avere spirito di adattamento, se voi non avete spirito di adattamento, non siete persone forti caratterialmente, che non si riescono ad adattare, che voi, eh, ma io in Italia, ma io in Italia avevo quello, ma in Italia ero così, non è il programma per voi, non è l'esperienza per voi, perché credetemi, per fare un'esperienza del genere, bisogna avere tanta tanta forza, per fare un'esperienza del genere, bisogna essere forti, bisogna essere persone intraprendenti, bisogna essere persone che si adattano, perché se non avete queste caratteristiche, non va bene per voi, non lo potete fare, sapete quante ragazze ho visto, che hanno mollato dopo una settimana, eh, ma io non mi aspettavo che fosse così, perché, ma questo non è un problema vostro, nostro, noi che partiamo, che ci affidiamo all'agenzia, sono le agenzie che non ti dicono le cose come stanno, l'agenzia te la vende, perché loro devono fatturare, se sentite, c'è stato quello di, stanno a prendere i secchioni, la famiglia te lo vende, eh, scusate, l'agenzia te lo vende come, esperienza migliore del mondo, l'esperienza più bella della tua vita, vai a vivere con la famiglia ospitante, e ti prendi cura dei bambini, e vivi negli Stati Uniti, punto. Non esistono contro, secondo l'agenzia, perché loro ovviamente devono vendere, devono fatturare, nessuno ti dice niente, quindi tu parti, arrivi là e dici, ma a me nessuno mi ha detto niente, io non sono preparata a questo, perché nessuno mi dice nulla, ed è, quindi per me, quanto è importante per me, parlare sui social, non solo di questo mondo dell'America, che ci viene venduta come, quando siamo in Italia, noi pensiamo tutti che l'America è questo mondo fantastico, questo continente, questo paese meraviglioso, non ci sono problemi, il sogno americano, l'American dream, come è giusto che io parli dei lati negativi, perché io sono un'italiana, che ormai vive negli Stati Uniti da cinque anni, è giusto anche che io vi parli di come stanno davvero le cose, anche a livello di ragazza alla pari, perché quante ragazze fanno i video su TikTok, e ci sta, ci sta, non tutti fanno, non tutti creano contenuti come li creo io, ci sono persone che vogliono semplicemente farti vedere quello che fanno, che le cose positive, e ci sta, però, però è giusto che ci siano persone come me, che vi parlano anche dei lati negativi, di cui poche persone parlano, quindi, sì, l'esperienza ragazza alla pari è un'esperienza fantastica, nel senso, una volta nella vita, vivi con la famiglia americana, vivi negli Stati Uniti, impari meglio l'inglese, io per esempio, sono stata una di quelle ragazze alla pari, che non ha perso un secondo, io mi sono risparmiata tutti i soldi, quindi non l'ho spesa in shopping, cavolate varie, la maggior parte delle volte, lavoravo overnight, lavoravo extra hours, perché? Perché volevo risparmiare i miei soldi, e io sono stata una di quelle au pair, che si è girata tutta l'America, praticamente, ho viaggiato tantissimo, ho fatto tantissime esperienze fighissime, cioè, io ho veramente girato quasi tutta l'America, quando ero au pair, mi sono persa qualche stato, ma, io ho viaggiato tantissimo, io, ogni volta che avevo il weekend libero, io viaggiavo, i miei parents, mi davano tre giorni liberi, io viaggiavo, cioè, io l'ho vissuta al 100%, perché poi, nella mia testa, io non mi sarei sposata, sarei tornata, io dovevo tornare in Italia, cioè, io un anno, volevo fare un anno, tornare in Italia, trovare lavoro in un'azienda, perché comunque, dopo un anno, parlavo inglese perfettamente, parlo quattro lingue, inglese, francese, spagnolo, inglese, francese, spagnolo, vabbè, italiano, quarta, e io dovevo tornare in Italia, e trovare lavoro, e poi, il destino ha voluto, che mi sposassi con Dian, e rimanessi qua negli Stati Uniti, ma quella è un'altra storia, e, quindi io ho, viaggiato il più possibile, perché ho detto, quando mi ricapito di tornare in America, sì, magari ci posso tornare, comunque, c'è, so, 8 ore di volo, se volete andare a New York, so, 12 se volete andare a Los Angeles, so, ho tanti soldi, ci ho detto, non è che io muo tutti i giorni, prendo l'aere, e vado in America, quindi me la volevo vivere al 100%, e ho viaggiato, quindi, è un'esperienza figa, è un'esperienza bella, ma ha tantissimi contro, ci sono tanti pro, ma ha tantissimi contro, perché, perché voi, abituate tutta la vita a vivere nella vostra comfort zone, a vivere in Italia, a parlare italiano, voi venite catapultati in un mondo, se poi non siete mai stati negli Stati Uniti, venite catapultati in un mondo completamente diverso dal nostro, cultura, lingua, persone, modi di vivere, cibo, ripeto, sono due mondi completamente diversi, e voi, venite catapultati, e voi vivete nella famiglia, in una famiglia, per un anno, perché voi, vuoi o non vuoi, avete la stanzetta vostra, ma voi dentro casa state con sta famiglia, e non è la vostra famiglia, non è mamma e papà, queste sono persone sconosciute, che voi avete conosciuto, tramite, tre, quattro videochiamate, qualche messaggino, su whatsapp, ma chi so, chi siete, io non ti conosco, quindi, quindi, io ve lo dico sempre, pensateci tre, quattro, cinque volte, prima di fare un'esperienza del genere, perché, è un'esperienza molto bella, ma, non è per tutti, non è assolutamente per tutti, vi dà tante possibilità, vi ripeto, vi dà la possibilità di viaggiare, vi dà la possibilità, se volete rimanere, di, magari, avete un J1, volete passare ad un B1, a un B2, come turista, volete stare di più, oppure, volete prendere il visto da studente, volete rimanere, fare il college, tante possibilità, volete sposarvi, vi fidanzate, trovate l'americano della vostra vita, vi sposate, rimanete qua, perfetto, ci siamo, siamo d'accordo, ma, ma pensateci, ripeto, queste sono esperienze, che non possono fare tutti, hanno, hanno problemi, figuratevi, quelli che fanno l'exchange student, che comunque, sì, è sempre un anno, ma è una situazione diversa, perché comunque, non puoi rimanere, perché tu fai il quarto anno, del liceo italiano, che, per loro è il quinto, ti prendi la graduation, e poi torni in Italia, e devi fare, il quinto anno di maturità, pure in Italia, quelle, ma, già loro hanno problemi, capito, perché magari la famiglia ospitante, non va bene, il problema di fondo, ragazzi, purtroppo, sono le agenzie, le agenzie, come in tutto, tutto, scusatemi, momento, il problema, sono le agenzie, perché, lo sappiamo, il mondo, l'importante è i soldi, l'importante è fatturare, e le agenzie, non fanno il lavoro, che dovrebbero fare, l'agenzia, ti dice, tu mi paghi, perché io ti, controllo la famiglia, io faccio, un check up, della famiglia, e controllo, se la famiglia, può partecipare al programma, se la famiglia, non so, dei sfollati, che se sembrano, fanno tutti, è, poi va lì, e sto dei pazzi, cioè, la famiglia, l'agenzia au pair, tu la paghi, perché loro, ti devono assicurare, che tu vai in una famiglia, che può far parte del programma, perché sono delle persone, brave, oneste, sono, capito, non so, dei criminali, il problema è che, l'agenzia, c'è così tanta richiesta, che la maggior parte delle volte, non lo fanno, non, non si accertano, che la famiglia, sia una buona famiglia, non si accertano, che, eh, ah sì, la famiglia, tu hai tal di tali, eh, può prendere l'area come per, perché sono brave persone, loro manco, la maggior parte delle volte, manco lo sanno, la famiglia paga, vuole entrare nel programma, ok, perfetto, chi sei, chi non sei, ciao, perfetto, sei nel programma, quante ragazze alla pari, purtroppo, hanno avuto esperienze, pessime, pessime, di famiglie, che non ci dovevano, proprio già dall'inizio, entrare nel programma, non ci potevano essere, perché non erano adatte al programma, ma l'agenzia non interessa nulla, stessa identica cosa, delle agenzie, che tu sei in America, abbandonata a te stessa, e tu hai problemi, le agenzie manco ti rispondono, cultural care, che è una di quelle più grandi, voi dovete, dovete farvi una chiacchierata, con le ragazze che sono partite con cultural care, avevano problemi, la famiglia non andava bene, stavano male, soffrivano di depressione, aiutatemi, mandatelo email, contro email, nessuno rispondeva, ti abbandonano a te stessa, e non dovrebbe essere così, perché io ti pago, io ti pago per fare un'esperienza, e tu mi devi dare il sostegno, di cui ho bisogno, quindi, ragazzi, nel senso, ci sono tanti pro e tanti contro, ripeto, l'esperienza è figa, se avete, se voi volete partire, a prescindere dopo tutte queste cose, che vi ho detto, perché io non ve lo dico, per spaventarvi, assolutamente, io ve lo dico, per mettervi i guardi, io vi dico le cose, che l'agenzia non ti dice, che l'agenzia non ti dice, perché deve vendere, facile, non è che, non è che ci vuole tanto, non è che ci vuole tanto, proprio per capire, però, però, questo, per dirvi anche, che ci sono tantissime ragazze, che invece hanno avuto, un'esperienza fantastica, e hanno trovato una seconda famiglia, io ho conosciuto tantissimo Per, quando ero negli Stati Uniti, e ci sono Per, che proprio, hanno trovato delle famiglie fantastiche, hanno trovato veramente, una seconda famiglia, e ancora, per esempio, vanno a trovarle, e ancora, sono in contatto con i bambini, con la famiglia ospitante, con la mamma, con il papà, con la host dad, con la host mom, e la host dad, e, persone bravissime, le host families, che possono far parte del programma, e sono delle persone fantastiche, ci sono tantissime ragazze, che hanno avuto delle esperienze, magnifiche, non hanno avuto un problema, con le famiglie ospitanti, il problema, è che questa percentuale di ragazze, è minore, rispetto a quelle, che non si sono trovate bene, e hanno trovato, delle famiglie ospitanti, non adatte al programma, quindi, per chiudere, perché sennò parlo troppo, il mio consiglio è, se voi l'esperienza la volete fare, fatela, ma, prendete le giuste precauzioni, cioè, cominciando dal, 60, mi scrivo 60 domande, che voglio fare alla host family, non, c'è qualcosa, c'è quel, sai quando ti senti che, c'è qualcosa che non mi convince, vai oltre, trova un'altra famiglia, non ti piace manco quella, il colloquio non ti piace, fai il colloquio con un'altra, non avere l'ansia, perché tante operano l'ansia, oddio, ma so cinque mesi, che faccio le, le, la videochiamata, non riesco a trovare la famiglia, non mi piace, trovo sempre qualcosa che non va, continua, continua, fino a quando non trovi la famiglia, che veramente, pensi sia giusta per te, perché, non ti puoi buttare, cioè la cosa che io ti dico, proprio consiglio spassionato, non ti puoi buttare, perché vai a vivere, per così tanto tempo, con una famiglia che non è la tua, in un paese che non è il tuo, quindi tu devi essere certa, al cento per cento di chi è, chi hai davanti, e chi, con chi vivrai, capito, per un anno, prenderti cura dei bambini, ma comunque lavori per loro, cioè loro diventano la tua famiglia ospitante, in quel momento la tua famiglia non c'è, la tua famiglia italiana, loro sono la tua famiglia, quindi, pensateci, fatevi delle domande, dite, ma io sono veramente adatta a questo programma, ma io ho veramente quella forza, quell'intraprendenza, quel, sapermi, adattare, sono adatta a questo programma, se voi, vi fate le domande, dite no, non perdete nemmeno tempo, perché ripeto, tantissime ragazze che ho conosciuto, anche e soprattutto le italiane, sono partite, hanno detto, ma chi è, ma che è sta cosa, no, io non ci voglio sta, che piangevano tutti i giorni, in camera, chiuse in camera, manco si stavano, si stavano godendo l'esperienza, perché ripeto, l'esperienza non è solo lavorare, ma anche godersi, scoprire gli Stati Uniti, non è l'esperienza per voi, sono subito scappate, sono tornate in Italia, e ci sta, ci sta, quindi, voi fatevi delle domande, fate le domande alle famiglie ospitanti, accettate la famiglia solo quando sentite davvero che è la famiglia giusta per voi, appena sentite, vedete una red flag, ve lo sentite, ve lo sentite, quando, soprattutto, una cosa che dico sempre, quando la famiglia è quella giusta, ve lo sentite, dopo la vediamo diceva, vedi, questa che l'ho trovata, è lei, sono loro, capito? Comunque, spero di aver risposto alle vostre domande, mi sono un pochino dilungata, così che ho potuto, appunto, parlarvi di tutto quello che avevo letto, se mi sono persa qualcosa, scrivetelo nei commenti, vi posso continuare a fare comunque dei video su TikTok senza problemi, perché io sono partita così e poi ho iniziato il podcast, vabbè, lo sapete, però, se ho perso qualche domanda, siete interessati a qualsiasi tipo di domanda, scrivetemi nei commenti, scrivetemi in privato su Instagram, o nei commenti su TikTok, ripeto, trovate la cartella in evidenza au pair, mi sembra che sia accanto a Ilaria e Dylan, insomma, stanno lì, sono tutte le cartelle in evidenza su TikTok, e cercherò di rispondervi, di leggervi, scusate se non riesco a leggervi tutti, ma siete veramente, veramente tantissimi, niente ragazzi, noi siamo arrivati alla fine di questo episodio, e ci vediamo, mi raccomando, ricordatevi, ogni mercoledì, alla vostra mezzanotte italiana, che negli Stati Uniti sono le 6 pm east side, mentre nella west sono le 3 di pomeriggio, quindi dipende da dove siate, e ci vediamo nel prossimo episodio, ogni mercoledì, con Keeping Up With Ia Ia Rondi, ciao!